Good morning Milano, benvenute e benvenuti, nuova puntata di venerdì e quindi tutti insieme lo possiamo dire Thanks God is Friday, è venerdì, finisce questa settimana, finisce sotto l'acqua, anche se due secondi fa, prima di entrare in studio c'era un sole pazzesco e un cielo nero contemporaneamente, e vedremo come andrà a finire oggi, lo sappiamo già sotto l'acqua c'è anche l'allertamento, poi ne parliamo bene dopo, ma dove siete, chi sono e cosa stiamo facendo, allora questa è Crystal Radio l'avete stato ascoltando tramite la vostra autoradio su 96.2 FM oppure con il Dab Plus in tutta Lombardia se siete su un cellulare avete quindi una app per iOS o Android oppure sul sito internet crystalradio.it Io sono Fabio Ranfi e questo è Good Morning Milano, il vostro morning show mattutino, il vostro morning show quotidiano la vostra sveglia, la vostra colazione, sono i vostri cereali, sono il latte con i biscotti, sono il caffè in cui pucciate il croissant questo è Good Morning Milano ed è quello che cerchiamo di fare, addolcirvi la giornata come può fare una colazione ma darvi anche la carica per iniziare al meglio questa giornata 331-78-53555 è il numero di Whatsapp a cui potete scriverci, a cui potete mandare quello che volete le vostre condivisioni, condividere con noi le vostre speranze per questa giornata oppure quello che avete fatto ieri, oppure insomma i progetti che avete in questa mattinata mattinata complicata a Milano anche per il traffico perché c'è lo sciopero dei mezzi ma poi ne parliamo bene subito dopo la prima canzone, The Colors, Karma The Colors con Karma alla ricerca del, come si chiama, del tormentone questo è il tormentone che i The Colors cercheranno di inserire anche in questa estate chissà che quest'estate i nostri corpi in costume balleranno questa Karma dei The Colors sulle spiagge accaldati in tutto il Mediterraneo, così chissà questo è quello che si augurano i cari The Colors che vorrebbero tanto che noi ci dimenassimo sulle loro canzoni e chissà che questo non possa succedere stanno arrivando i tormentoni estivi, pian pianino uno dopo l'altro arrivano mi sembrano un po' più lenti rispetto al solito, mi sembra che di solito arrivassero un po' prima forse c'è l'effetto Sanremo, l'effetto Eurovision che ha allungato alcuni tormentoni e quindi siamo un po' in ritardo sugli altri comunque buongiorno a tutti e buongiorno a tutte ancora ben risvegliate, ben ritrovati qui con noi, ben accomodate accomodatevi alla nostra tavola per la colazione dei milanesi con Good Morning Milano arrivano anche i primi whatsapp, il 3317853555 come quello di Alberto che come sempre è fattuale, Alberto ci dà dei messaggi che non puoi dire niente quello è, però lui te lo dice perché è giusto prenderne coscienza buongiorno Fabio, buongiorno redazione e buongiorno amici cristallini buongiorno a te Alberto in attesa del weekend che ci introduce nel mese di giugno e quindi all'estate giusto, perfetto ragazzi, ci prepariamo per un'altra giornata impegnativa tra sciopero e meteo avverso, più fattuale, è la sintesi di questa giornata quindi grazie Alberto, Alberto ci fa la sintesi della giornata prima che questa avvenga cioè è fantastico, grazie che ogni mattina ci dai questo servizio quindi siamo contenti di stare insieme a te, di appunto poterti portare nella giornata e finiamo appunto il tuo messaggio leggendo giornata impegnativa tra sciopero e meteo avverso e allora andiamo a leggere cosa succederà per lo sciopero sciopero annunciato da Al Cobas per oggi venerdì 31 maggio dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 fino a fine del servizio sciopero ATM quindi tutto il personale ATM è chiamato appunto a scioperare come al solito vedremo cosa succederà alle 8.45, cosa chiuderà, cosa non chiuderà quali metropolitane chiudono, quali metropolitane non chiudono la M4, la M5 sappiamo essere automatizzate quindi basta pochissimo personale che fa sciopero e se non si riesce a riorganizzare il turno quelle metropolitane rischiano la chiusura metropolitane che al momento però hanno già un piccolo problemino perché la M2, non per giudere lo sciopero ma per altri motivi è chiusa tra Crescenzago e Cologno Nord e tra Crescenzago e Vimodrone la M2 è chiusa appunto tra queste stazioni e ci sono degli autobus che fanno il servizio sostitutivo e fermano a Cascinagoba, Cologno Sud, Cologno Centro, Cologno Nord, Crescenzago e Vimodrone ATM si scusa, il pronto intervento sta già riparando il guasto sul resto della linea i treni invece sono rallentati quindi considerare maggiori tempi di percorrenza e di attesa nelle stazioni della M2 l'attesa non è la stessa parte del viaggio è il viaggio con la M3 questi proiettili che entrano, si penetrano nella nostra città e vanno sotto, sopra, così, è quello però poi non sono sempre dei proiettili in questo caso appunto abbiamo un stop sulla M2 tra Crescenzago e Cologno Nord e tra Crescenzago e Vimodrone ma andiamo a sentire anche invece com'è il traffico nella nostra città la rete stradale come brulica in questa mattinata così un po' oggiosa e un po' speranziosa ma con lo sciopero dei mezzi che insomma incombe così alla finestra e allora andiamo a chiedere a Luce Verde com'è la situazione del traffico in questo tempo su Milano Il Toto con Africa a 7.25 minuti Crystal Radio, Good Morning Milano l'ho risentito che c'è un po' un allerta meteo non un po', c'è l'allerta meteo l'abbia scritto anche nel giornale radio prima di noi allerta meteo che è iniziata ieri sera ieri pomeriggio tardi alle 18 è stata fatta anche un'evacuazione preventiva nella comunità di Dommazzi al Parco Lambro sotto osservazione ovviamente i livelli del fiume la protezione civile invita a non sostare sotto alberi o impalcature questo è quello che sarà la giornata di ieri fino a in teoria questa sera anche se dovrebbe pian pianino andare poi a migliorare progressivamente questa mattina appunto ci siamo alzati con la città già bagnata al momento non sta piovendo ma potrebbe appunto ricominciare a piovere prima poi di lasciare nella giornata del pomeriggio poi il sole di nuovo dovrebbe tornare o meglio le nubi con qualche sprazzo di sole questa mattina appunto intorno alle 8 dovrebbe esserci il piccolo, la finale l'ultimo pezzo di la coda dei temporali e delle precipitazioni che ci sono state in città tra ieri e questa notte intorno alle 8 i vari siti di meteo danno forti piogge quindi grande allerta e poi il problema sarà a vedere dopo cioè queste forti piogge che continuano comunque a insistere nella parte nord della nostra provincia e nelle province a nord della Lombardia portano giù l'acqua nei nostri fiumi questi fiumi arriveranno quindi anche se qui avrà smesso di piovere arriveranno però con delle piene o meglio molto molto vicini al limite delle esondazioni e quindi si sarà a capire insomma che cosa succederà se la vasca si attiverà o no per il Seveso cosa succederà al Parco Lambo tant'è che infatti la comunità di Don Mazzi al Parco Lambo è stata evacuata preventivamente torniamo fra poco adesso i Death Straits poi un po' di musica ancora a consigli per gli acquisti e poi qua insieme di nuovo per Good Morning Milano 100 messaggi con Lazza alle 7 e 38 minuti e già raggiunto qui in studio con noi Eri B, buongiorno Eri B Buongiornissimo Caffè? No, per favore cominciamo già male lo sapevo io Buongiorno Eri B, come va? Tutto a posto, grazie Tutto bene Tutto a posto È venerdì quindi la settimana è finita Sei contenta? Ma meno male soprattutto perché entra il mese più bello dell'anno Ecco giugno Giugno Perché è il mese più bello dell'anno? L'abbiamo già detto la scorsa settimana perché è il mese del mio compleanno E soprattutto sapete perché io sono contenta ultimamente che il mio compleanno sia giugno? Perché più che non lo eri? Allora da 20 anni a questa parte sono molto più contenta Perché giugno Ma ti dico perché non eri contenta prima invece? Allora tutti qua, io sono di luglio quindi lo so benissimo Qui festeggia dopo la fine della scuola Non è mai contento Perché quando sei bambino e ragazzino non puoi fare le feste con i tuoi amici Sì però ci devi mettere un aggravante perché è nato a giugno Quando si comincia a lavorare invece siamo tutti qua L'aggravante di chi è nato quasi a fine giugno come me è che ha fatto tutti gli esami di stato il giorno del proprio compleanno Io ho fatto l'esame di terza media il giorno del mio compleanno La maturità o la prima prova o la seconda il giorno del mio compleanno All'università esami a manetta il giorno del mio compleanno Chiunque fa l'università magari anche che è nato a febbraio può fare un esame Non c'è la sessione di febbraio Che è nato a novembre no però A novembre non c'è un esame come no? Quasi mai Ma non è vero ci saranno Ma no non è vero Comunque io sono sempre più contenta che il mio compleanno sia giugno perché giugno Ma soprattutto quasi il weekend del mio compleanno è il weekend e il mese del Pride Ah vedi vedi quindi Quindi un compleanno arcobaleno Esatto 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 Vuoi dire un'altra volta esatto? Esatto esatto Ma senti ma manca qualcosa No non devi dire quello che manca Dire quello che abbiamo Che se non gli venite la settimana a cui non andrai Esatto non c'è la mia sigla Vuoi dire un'altra volta esatto? La faccio un'altra volta Fala un'altra volta Gli venite la settimana a cui non andrai Questa è la sigla? Sì è la sigla Ok va bene Va bene inizio allora Va bene arrivato un whatsapp da Adriana Al 331 78 53 555 Che dice buongiorno belli Credo che non abbia sbagliato radio Ma c'è visto in faccia Fate fare la sbagliato radio Va bene in radio sono tutti belli effettivamente Sì infatti infatti Va bene inizio Inizio Allora Molti di questi eventi sono all'aperto Mi auguro che il tempo non faccio il guastafeste Però potrebbe farlo Allora Questo svago È uno svago il picnic Tu quanti picnic hai fatto nella tua vita? Da ragazzino qualcuno Devo dire Al bosco in città Io da bambina molti Ma poi si è un po' perso Però Conosco gente a cui piace andare a mettere giù il telo Al parco E star là Quindi andate a City Life Un picnic Divertitevi A dove? Sul parco di City Life? Eh sì Mezzagrattacene Picnic in mezzagrattacene Beh Potrebbe essere affascinante Vabbè Se lo dici Poi Ovviamente arriva già un Whatsapp Sì a me a me a me piace Chi? Marilena Ovviamente Marilena ci scrive 3317853535 Scusami perché ho detto chi? Però è più bello al parco Sempione Ovvio perché Lei ha la passione per il parco Sempione Che va bene Sabato primo giugno Dalle 19 Nel cuore del parco Sempione appunto Quindi Marilena prendi appunto C'è la notte rosa La notte rosa? Sì Ma non era una roba di Rimini Esatto Stiamo portando anche qua Beh non c'è molta differenza Tra la movida riminese E la movida milanese Diciamo che chi fa la movida a Milano L'ha esportata a Rimini E viceversa A Milano Marittimo l'ha esportata No Vabbè Vabbè comunque Quindi divertitevi Anche lì I grossi premi cotillon Poi vuoi che ti dico Una cosa un po' Sfiziosa O una cosa che c'è tutti gli anni Ma mi nervosisce Allora Dimmi tutti e due Devi dire tutti e due Di sapere che quale vuoi per prima Prima la sfiziosa Allora Perlana Dal 27 maggio al 2 giugno L'evento si chiama Perlana Pop Lab It's More Than Magic C'è tutto un padiglione dedicato It's More Than Magic C'è tutto un padiglione Un pezzo dedicato alla storia di Perlana Ci saranno giochi Che riguardano fare il bucato Che sicuramente è una cosa molto divertente E poi lo spot di Perlana era il nuovo No è lavato con Perlana E quindi tutto avrà questo Questo diciamo Linea Ok la linea è quella lì Del nuovo No Lavato con Perlana Sì Ho detto Pensa te Che coincidenza Plot twist Plot twist Ok Comunque Ti piacerebbe andare al Perlana Pop Lab Allora Devo dire Bello sì Posso dire Perlana Potevate usare un po' di più E fare uno schiuma party a questo punto Scusa Certo Cari amici della Perlana Io vi voglio bene Adoro il vostro sacchiotto E un nuovo L'ho lavato con Perlana Mi ha fatto crescere Così Però vabbè comunque Ma adesso I vostri creativi Invece di pensare a More Than Magic È bello Ma cosa no Ma sono una roba chissà cosa Invece è un bello schiuma party È bello Vabbè Vabbè Poi Andiamo avanti Abucinasco Cos'è Allora Devo dire che i nostri ascoltatori In questo caso Fabrizio da Opera Ci dice Ha capito lo spirito perfetto Di questa manifestazione Di questo momento tuo E ci dice Vi prego Non andate alla manifestazione Amazing Days Da oggi Fino a domenica Opera Festival della cultura hip hop Un delirio Fabrizio da Opera Grazie Fabrizio Oddio Potrei avere gli eventi Della settimana A cui qualcun altro Non andrebbe No È uno spin off Bellissimo Questo è stupendo Io adesso blocco Il numero di Fabrizio Che ha questa idea Che non va bene Grazie Fabrizio Molto interessante Quindi non andate A questo evento Che si terrà Amazing Days Amazing Days Da oggi Fino a domenica A Opera Da oggi Festival della cultura hip hop Che voi non andate Andateci Fabrizio non ci andrò Magari io ci vado Che può dirlo Io in realtà Do consigli su cui Voi potreste andare E dirmi Oh Erika Guarda che hai sbagliato Ti sei persa la roba Hai sbagliato Tipo Sai che bello il picnic City Life Oppure tipo Quello che adesso mi dirai Che ti innervosisce tantissimo Ah quello che mi innervosisce tantissimo È il Milano Latin Festival 2024 2024 È il terzo sulla stessa sigarnia Sì Tra l'altro devo fare una piccola confessione Sì Anni e anni fa Quando veniva fatto Ad Assago Ad Assago Non so per quale ragione Una sera ci sono finita Sì anch'io Ma proprio mi sono innervosita Nota di colore E la prima volta è unica Che ho visto mia mamma ubriaca Perché Perché Un nostro amico Gli ha detto Ti vuoi bere una caipirosca A mia mamma non sapeva minimamente Cosa fosse una caipirosca Ma sì dai C'è la fragola Gli ha letto dentro Ah ottimo Peccato che la fragola è una Degli ingredienti Oltre agli 85 alcolici Sono dentro E lei l'ha bevuto Era molto contenta Quella sera Eh va bene L'ho vista a Lega L'ho vista sì Ad Assago appunto Ad Assago Esatto Cioè questa volta invece Viene fatta al Ticketmaster Arena Ecco Al Ticketmaster Arena Sì ma sai dov'è? No Ci sono passata Non me lo ricordo All'Acquatica Eh infatti Non mi ricordavo dove fosse Lì è lì è lì C'è qualcuno che ci ha scritto Sì Maria dice Non ero No Non ero pronto a questa notizia Credo Non lo so Perché non ero pronto Maria Maria da scrivi Non si capisce E sta correndo Per andare a prendere la metro Sarai in ritardo come al solito Sarai in macchina Ah sì giusto Sarai in macchina Perché vabbè Ci abbiamo questi ascoltatori Un po' strani Che ci ascoltano in macchina Mentre vanno a prendere la metro E tu dirai Ah perché abitano lontano dalla metro Quindi vanno 500 metri 500 metri Un altro evento Dove sicuramente non andrò È la festa dello sport a Buccinasco Che c'è dal primo al 9 di giugno Tutte le palestre di Buccinasco Hanno l'apertura delle porte Delle loro palestre Così si portano avanti un po' Con le iscrizioni Con le iscrizioni per l'anno prossimo E ci sarà sta festona Tra l'altro tutta Buccinasco È tappezzata di questi ricordi Dell'andare alla festa dello sport Manifesti si chiama Non mi veniva con la parola manifesto Ricordi per andare alla festa Manifesti, volantini Senti sono le 7.47 Anche per me Io non parlo tutti i giorni Così tanto come fai tu Non il radio Tu parli molto lo sappiamo Altro? The last The last, ma not the least È una cosa a cui non andrei Però chapeau Perché l'hanno inventata Ed è bellissima È la sagra del pollo di Giannasi Un'intera giornata tra cibo e musica Domani, primo giugno Al chiosco Giannasi No, fantastico Io non lo so se non ci vado Che figo il signor Giannasi Un giretto ce lo farei È quasi quasi Eh ma se non lo mangi il pollo Ma di Giannasi potrei mangiarlo Allo spiedo Aveva, fa anche le patatine Fa anche altre cose Fa le crocchette di pollo Io andavo sempre al mercato Da quello che fa il pollo Allo spiedo Ma prendevo le crocchette di patate Ecco Quindi facevo così Vabbè ho concluso Anche questa settimana Bene, allora Eribi, grazie Che dire Prego Prego Ti vedremo quindi dove All'Latin Festival A nessuno di questi A nessuno di questi Neanche Da Giannasi Neanche Da Giannasi L'unico che mi piace È il Perlana Pop Lab Ah vedi Ce n'è uno che ti piace Andrei Perché sicuramente Ci saranno un sacco di donne E quindi Preferisco gli eventi Quei maschi Ma cos'è Stavaria Chiudiamo qui Che è meglio Non voglio andare Indagare Comunque ci tengo a dirvi Che non ho preso L'antistaminico Stavattina E si vede Mi vengo a dire Però questo è il problema O meglio Non si vede la differenza Cioè è uguale No dai Non ti sta ingattando la faccia Mi hai preso Una ridarella Che non sapevo neanche io Come fare Anche se anche a voi L'antistaminico Fa questo effetto Ditecelo Al 331 7853 555 Grazie mille Eribi Ci vediamo settimana prossima Buona giornata a tutti Ciao Eribi Adesso un po' di musica Really Miss a Dancer Snap 7 e 52 minuti Ancora qualche minuto Prima di chiudere La prima ora Di Good Morning Milano E questa mattina Voglio farvi ascoltare Un pezzo nuovo E' un pezzo che mi è arrivato Direttamente Dalla sua autrice Che abbiamo già ascoltato Altre volte Qui su Good Morning Milano Lei è Giorgia Maria Sara È una ragazza Di Catania Che ha vissuto anche a Milano Che adesso Vive a Roma Fa anche stand up comedy E ha fatto una canzone Ha fatto una canzone Che si chiama Avicina Tra parentesi In un momento In un momento in cui Sta arrivando Sta tornando Anzi un po' Quest'idea di usare I dialetti Di origine Di ognuno di noi Per fare della musica Però non la classica Musica folk Che magari Siamo abituati a sentire Ma una musica Più moderna Una musica Che abbia E strizzi l'occhio Magari un po' All'elettronica La dubstep Insomma a quelle Canzoni Che possiamo anche Magari ballare In questo caso appunto Arriva Da Giorgia Maria Sara Un pezzo Che è In un siciliano Abbastanza stretto Devo dire la verità Io non ho capito Assolutamente niente Tanto che a un certo punto Ho chiesto Per favore Mi mandi il testo Ma non cambia molto Quando penso a una canzone Di Eminem In cui non capisco Assolutamente niente Del testo Anche lì Quindi insomma Il risultato è molto simile Anzi il risultato È quello di farmi Comunque ballare Con un pezzo Che si intitola Avicina Che In realtà lo posso capire Un po' Cosa significa La vicina E che si domanda Insomma un po' Perché la vicina Non si fa mai I fatti suoi O meglio Forse sarebbe meglio Che la vicina Si facesse un po' I fatti suoi Questa è la domanda Che si fa Giorgia Maria Sara Nel suo pezzo appunto Avicina Ma concludendo poi Proprio sul finale di canzone Con un qualcosa Che ci fa capire Come la vicina Intesa come quella Che non si fa mai I fatti suoi È un po' ovunque Perché la vicina È chi vuoi tu Dice La vicina forse Non sono io Ma la vicina Sei anche tu O forse Sono anche io La vicina La vicina Deve un po' Fararsi un po' I fatti suoi E allora Ascoltiamoci appunto Avicina Di Giorgia Maria Sara Qui alle 7.55 minuti Su Crystal Radio Good Morning Milano Giorgia Maria Sara Con Avicina Yes sir I can boogie Baccarat 8.08 Questo era il Crystal History Qui su Good Morning Milano 96.2 FM Dub Plus Applicazione IOS Android Il sito internet Crystal Radio .it Ma soprattutto Se volete rivedere Ascoltare E rivivere Tutto quello che succede Qui in trasmissione Con noi E volete farlo dopo Con calma e serenità Con il vostro smartphone Con i podcast O con la vostra Anche con la Smart TV Se volendo Anche su quello Potete farlo C'è il sito Good Morning .milano.it Perché ad esempio Adesso iniziamo Un'importante Intervista Che magari Dovete perdere Perché state Per entrare al lavoro E potete riprendervela Dopo Diamo il buongiorno A Giovanni Molisse Buongiorno FP CGL Milano Buongiorno Buongiorno A tutte e tutti Buongiorno Ben tornato Ben ritrovato Ricordiamo appunto Giovanni Tu sei sindacalista Della funzione pubblica CGL Che segue Le questioni appunto Del comune di Milano La funzione pubblica Appunto è quello Ci eravamo lasciati Un mesetto fa Più o meno Con alcune questioni aperte Che finalmente Abbiamo visto risolvere Giusto? No Ecco appunto Appunto Immaginavo No Diciamo che la questione In questo momento Principale È la questione Relativa al diritto al pasto Diritto al pasto Sì Nel senso che Noi abbiamo Scritto al prefetto Adesso Dobbiamo andare In prefettura Perché sostanzialmente L'amministrazione Non ha rispettato Quelli che erano Gli accordi Che avevamo preso Già ben un anno fa Perché è un'avvertenza Che va avanti Da più di un anno Come ti dicevo Anche l'altra volta Sostanzialmente Succede questo L'anno scorso Noi in prefettura Sempre Perché eravamo andati In prefettura Anche in quel caso Avevamo concordato Con l'amministrazione Che ci dessero Il ticket cumulabile Che noi volevamo Da subito Avevamo concordato Che ce l'ho dessero Dopo un anno Dalla gara La gara doveva finire Da novembre 23 Quindi noi pensavamo Che a novembre 24 Avevamo il ticket cumulabile Il ticket cumulabile Giovanni Che è quello Che hanno molti lavoratori Il classico Adesso Non vorrei dire un nome Su tutti Ma il classico Ticket restaurant Di quello Di altri tipi Di aziende Che si può utilizzare ovunque Che se non usi Supermercati Che se non usi Ce l'hai lì Ce l'hai cumulabile Che quanto viene 25 Mi scarichi tre Tre ticket Esattamente Perfetto E questa cosa Noi volevamo La volevamo da subito Però siamo riusciti Come sempre nelle mediazioni A dire vabbè Dopo un anno Dall'avvio della gara Che ripeto Doveva essere Doveva terminare A novembre 23 Quindi noi C'eravamo come dire Convinti Che fosse a novembre Di quest'anno Invece Ci sono state Una serie di proroghe Una serie di proroghe Alla fine siamo arrivati Che la gara è partita Sostanzialmente Il nuovo gestore Siamo partiti Col primo di maggio Di quest'anno Quindi il tutto È slittato Di un bel po' di mesi Alla metà Dell'anno prossimo Non al novembre Di quest'anno E già lì Ovviamente Diciamo che non siamo Soddisfatti Da questa cosa Ma oltretutto Cosa succede Che loro hanno fatto Una gara Appunto Di convenzioni In cui noi Con il nostro badge Possiamo andare A mangiare Durante la giornata Ma cosa succede Hanno pubblicato L'ultimo giorno utile Tra l'altro Il 29 di aprile L'elenco di tutti I locali convenzionati Per poi scoprire Subito dal primo di maggio Insomma dal due di maggio Quando poi La stragrande maggioranza Dei lavoratrici e lavoratori È andata In questi 1259 Posti convenzionati Che hanno pubblicato Il 29 di aprile È un bel numero È un bel numero Se fosse vero In che senso Il problema è che non è vero Nel senso che alcuni Di questi posti Sono nell'elenco Ma risultano chiusi Da tempo Chiusi per sempre Sì Chiusi Proprio posti Chiusi Alcuni Non sanno Di essere in convenzione Quindi sostanzialmente Sono stati inseriti Nella convenzione All'oro insaputa Quindi andava in un locale Siamo andati in alcuni locali In cui ha detto No ma noi non siamo convenzionati Assolutamente Altri che non avevano ancora il post Perché serve un apposito post Perché non è il post classico Del banco Ma per esempio C'è un altro Un post specifico Che alcuni non avevano Quindi c'era anche questo disagio qui Alcuni non sapevano ancora bene Come dovevano comportarsi Con questa convenzione Insomma è successo di tutto Sostanzialmente Noi a quel punto Chiaramente Avendo decine Per dire centinaia Di mail ricevute Nel giro di pochissimi giorni Telefonati Mail Da parte dei lavoratrici Lavoratori Abbiamo chiesto subito Un incontro all'amministrazione Che ce l'ha dato 23 giorni dopo Quindi L'incontro L'abbiamo fatto il 23 maggio E non abbiamo risolto molto Nel senso che Ci siamo resi conto Che A differenza di quello Che pensavamo noi Cioè prima di pubblicare Un elenco di locali Noi ci aspettavamo Che l'amministrazione Avesse fatto Un controllo Cioè nel senso Avesse visto Che questi locali Erano locali Effettivamente Che avevano aderito In realtà Al 23 di maggio Questi controlli Ancora non erano Nemmeno terminati Li stavano facendo Li abbiamo dovuti fare noi Noi abbiamo chiamato Come CGL Ci siamo messi al telefono Per esempio Loro avevano messo All'interno dei 1259 Locali Oltre un centinaio Per celiaci E tutti quelli Che hanno problemi alimentari Noi avevamo detto Cavolo Una bella cosa Più di un centinaio A Milano Telefonando Abbiamo proprio preso L'elenco Cosa che Avrebbero appunto Ho dovuto fare Loro Ma prima di pubblicarli Molti ci hanno risposto No noi Non facciamo questo servizio Anche perché Una pizzeria Che deve fare i ciliaci È un po' difficile Dovrebbe avere due forni Ci sono Ma appunto Hanno delle situazioni Abbastanza particolari Giovanni Allora rimani qui con noi Perché poi Vorrei capire Perché sei arrivato A questa situazione Non bastava fare Un bando Dove si diceva Le società Dovete fare Il ticket accumulabile Come tutte le altre Non si poteva fare Una roba del genere Eh si poteva fare Dopo ti spiego il perché Allora poi mi spieghi perché Ve lo spieghi dopo Sting Ti piace questa compagnia? Va bene? Moltissimo Ok perfetto Giovanni Molisse È sempre qui con noi Dopo Sting A parlare della funzione pubblica A parlare appunto Di questo diritto al pasto Che giustamente I dipendenti comunali Stanno richiedendo ormai Da tempo Sting Englishman In New York Invece qui abbiamo Un affamato man In Milano Perché qui Ragazzi Non riusciamo ad avere Un diritto al pasto Per i dipendenti comunali O meglio Nessuno muore di fame Diciamo fuori onda Perché vi lo portate Da casa a volte però Cioè quello Invece insomma Ci sarebbe un contratto Ci sarebbero delle possibilità Che andrebbero invece Sanate Diciamo in questo caso La domanda che ti ho fatto Prima di andare in pubblicità Cioè prima di andare in canzone Era questa Però perché non si poteva fare Una classica Manova Cioè un bando Dove diciamo Mettiamo le varie aziende Che anche i privati vanno Adesso c'è anche Rovazzi Che fa la pubblicità Di una società Di ticket Su Instagram Cioè perché Non si poteva fare Quella cosa lì Allora se loro avessero dato Il ticket cumulabile A tutte le lavoratrici E lavoratori Gli costava 14 milioni di euro Che è il doppio di quello Che spendono adesso Cioè 7 milioni di euro Perché ovviamente Il ticket cumulabile Non c'è nessuno Che non l'avrebbe utilizzato Giusto Hanno scelto di fare La strada di una convenzione Col ticket cartaceo Da consumare in giornata Anche su una Diciamo anche noi Eravamo d'accordo Perché mangiare a Milano Con 7 euro È un po' difficile Quindi abbiamo detto Se abbiamo dei locali convenzionati Che ai 7 euro Attraverso una convenzione Riusciamo a dare Comunque un pasto completo Un pasto light Alle lavoratrici e ai lavoratori Anche a noi andava bene Perché al comune Quanto costa poi Questo pasto più o meno Il comune Il comune Praticamente mette 7 euro Ok Che è il ticket Che dà ogni giorno Ok Però Abbiamo stata fatta Una convenzione Che prevederebbe Secondo quello Che avevamo firmato noi Che non è stato rispettato Che nel pasto light Si aggiungono 2 euro Nel pasto Completo Quindi primo Secondo Eccetera Intorno Nel pasto completo Si aggiungevano Fino a 3 euro e 50 Quell'aggiunta La fai tu La fa il lavoratore Ok perfetto Però quel fino a euro e 3 e 50 È diventato 3 e 50 Cioè loro hanno comunicato Ai locali Che era 3 e 50 Quindi 10 e 50 Non è diventato Fino a 3 e 50 Quindi Poteva essere anche 50 centesimi Esatto Questa è stata la prima cosa Che non è stata rispettata Ok Ma in più Noi avevamo concordato Per esempio Anni fa C'erano le vecchie mense Al comune C'erano dei posti Dove tu andavi E mangiavi Quelle sono state tutte chiuse Nel passare degli anni Ok Però noi abbiamo detto Ma perché non riapirle In alcuni posti Quindi avevamo messo Nero su bianco Quindi avevamo fatto Un accordo su questo Ok Avete già individuato dove anche? Sì avevamo individuato Per esempio in Durando In una serie di Durando Che non ci sono 700 lavoratori Si poteva aprire un bar L'amministrazione ha firmato Quell'accordo In cui avrebbe aperto il bar A distanza di quasi un anno Ci ha detto Che ancora non hanno fatto niente Che forse Tra due mesi C'è uno che è interessato Ma ancora non si sa niente Purca In più avevamo per esempio detto Nei cimiteri cittadini Dove è difficile trovare vicino Dei locali Da convenzionare Eccetera All'interno di alcuni cimiteri Ci sono sempre stati i refettori Li apriamoli No? L'abbiamo scritto Anche quello Nell'accordo che abbiamo fatto Anche lì Zero studio di infattibilità È rimasto tutto Diciamo Così Senza nessuna Nessuna A distanza di un anno Cioè quindi È ovvio che noi Avendo firmato un accordo Avendo tutte queste questioni Che non sono state rispettate E quindi adesso cosa volete fare? Facciamo che andiamo dal prefetto E gli facciamo capire Che quello che avevamo firmato Davanti a lui Quindi davanti In prefettura Non è stato rispettato Dall'amministrazione E poi sicuramente Faremo delle azioni Di mobilitazione In questo senso Anche perché Voglio dire un'ultima cosa Le persone che hanno Problemi Diciamo Alimentari Quindi celiaci Che ha delle fragilità Di problemi alimentari Sono quelle Che ancora più degli altri Ci interessa Perché sono persone Che da un mese Praticamente Non stanno riuscendo A consumare il pasto Se non mettendo Di tasca proprio Perché ovviamente Si recano Nei locali Che dovrebbero servire Per loro Ma non trovano risposte Insomma La questione davvero Che vogliamo seguire Con attenzione Anzi Tienici aggiornato Adesso quando è che andrete Dal prefetto Lo sai già Ma siamo convocati Per oggi pomeriggio Però gira voce Che l'amministrazione Non riesce Per oggi pomeriggio Diciamo così Lo sposteranno A settimana prossima È una voce Finora Al momento Non è arrivato Ancora niente di scritto Nell'agenda pomeriggio C'è scritto prefetto C'è scritto prefetto Però gira questa voce qua Vedremo se è vera Speriamo che te lo faccia Sapere in tempo Non che arrivi là No Diciamo che in mattinata Dovrebbe arrivare Se è confermato Oppure no Va bene Meno male Senti Da sindacalista Devo farti una domanda Perché oggi è il 31 maggio E venerdì c'è lo shopper ATM So che voi non vi occupate Tu non ti occupi appunto di quello Non me ne occupo personalmente Non ti occupi personalmente Però insomma Volevo chiederti questo Nel senso Lo shopper ATM Quasi una tradizione milanese Sembra Soprattutto per noi giornalisti Quando lo raccontiamo E una grande scocciatura Per i cittadini Che sbuffano Quando va bene Se non anche peggio Nel senso Smattano un pochino E non c'è grande rispetto Verso il lavoratore Quando questo shoppera Da parte di alcuni cittadini Come possiamo fare Per far capire Che in realtà Questo è proprio un diritto E dobbiamo forse Comprendere meglio Il perché Appunto delle categorie Che shopperano Ci danno un po' fastidio Ma forse dobbiamo Tollerare questa cosa Guarda Le organizzazioni sindacali Quando usano Lo shoppero È l'ultima L'ultima arma Che possono utilizzare Per poter far valere I diritti Delle lavoratrici I lavoratori Tieni conto che Noi anche al Comune di Milano Lo usiamo raramente Ma Per quello che ne so io Ripeto Non è una categoria Che seguo Ovviamente Loro fanno shoppero Perché chiedono Dei diritti Sia da un punto di vista Delle politiche occupazionali Cioè nel senso Che Le lavoratrici E lavoratori di ATM Che tra l'altro Non ha partecipato Al 100% Del Comune di Milano Hanno Diciamo così Dei salari Bassissimi Sono dei salari bassi Che non gli consentono Di arrivare a fine mese Diciamo che su questi Ci sentiamo molto vicini Anche noi come dipendenti comunali Perché siamo nella stessa situazione In più Hanno una carenza di organico Anche loro Drammatica E di conseguenza Vorrebbero Che venissero assunte Un po' più persone Cioè in sostanza Si ritrovano ad avere Poche persone E un salario basso Diciamo che queste due cose Mi sento di dire Che sono le stesse Del Comune di Milano Dei dipendenti Un anno e mezzo Un anno e mezzo quasi Queste cose Ovviamente succedono Anche in ATM Anche in altre situazioni Il problema è che se tu non riesci A quagliare Con chi è il tuo datore di lavoro Non riesci ad avere Un salario maggiore Nella contrattazione nazionale Delle politiche occupazionali Che ti diano un respiro E meno carichi di lavoro Alla fine devi fare così Per poterti far ascoltare Il tema qual è? Che anche facendo così Purtroppo in questa società odierna Non si viene ascoltati lo stesso E questa è la vera cosa Che è scandalosa Passa anche un po' la notizia Che voi invece in realtà Andate al tavolo una volta Vi incazzate subito Allora sciopero Perché poi passa questo Un po' sui giornali Non è mai così Non è mai così Ribadisco Noi adesso decideremo Per esempio Le forme di mobilitazione Ma tieni conto Che questa vertenza È iniziata nel marzo del 2023 Quindi se noi dovessimo arrivare Ipotizzo Ad uno sciopero Vuol dire che ci arriviamo Dopo 16 mesi di vertenza Cioè quindi non è che È una cosa che ci si sveglia Mi siedo e faccio saltare il tavolo subito Mai Non succede mai Cioè tutte le organizzazioni sindacali Confederali Io parlo della CGL Prima di arrivare A fare uno sciopero Facciamo sempre Tutti i passaggi Sempre Poi alla fine Ribadisco In tutte le categorie Compensa quella della funzione pubblica Se non si arriva Ondunque Naturalmente bisogna tutelare I diritti Delle lavoratrici e lavoratori Anche perché Se non ci fossimo noi A tutelarli Sarebbe un vero problema In questa società Intendo Infatti questo è un altro tema Che prima o poi Giovanni Affronteremo Che è subito Quello dell'appartenenza Appunto ai sindacati O comunque del riconoscere Il ruolo dei sindacati Entra nella società Soprattutto magari Dai lavoratori Dai lavoratori più Più giovani Che magari fanno fatica Ad avvicinarsi a questo mondo Perché insomma Magari è una cosa Un po' troppo lontana Per alcuni Quindi bisogna far capire Che insomma Il sindacato appunto Tutela i lavoratori Qualsiasi sindacato Sì Noi tuteliamo i lavoratori Adesso tra l'altro Ne approfitto per dire Che la CGL Sta raccogliendo le firme Per quattro referendum Proprio per Maggior tutela Delle lavoratrici e lavoratori E anche Per la questione Degli apparti Subapparti Adesso non voglio entrare Nel merito Però ci sono quattro referendum Su cui stiamo raccogliendo Le firme come CGL Proprio per tutelare Le lavoratrici e i lavoratori E il lavoro E quindi dare maggiori garanzie E maggiori diritti Alle lavoratrici e i lavoratori Di tutte le categorie In questo caso E non sto parlando solo Della funzione pubblica Chiarissimo Allora Giovanni Ti ringrazio tantissimo Ancora ho passato Con noi anche questa mattina Per averci raccontato Questa storia Tienici aggiornato E facci sapere Come andrà allora Va bene? Ovviamente vi aggiorno Sicuramente Grazie mille Giovanni Molisse Segretario della FPCGL Di Milano? Milano 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 E chi lo sa Nella vita Non si può mai sapere Giovanni Mi piace tanto Giovanni Devi tornare qui Dobbiamo fare anche Una puntata dove facciamo Scuola di sindacato Dove spieghiamo bene Che cosa fate Perché serve Perché è importante Che i lavoratori appunto Riconoscano Molto volentieri Quando volete Volete Anche perché Per me il sindacato È veramente importante Grazie mille Giovanni Allora andiamo con la musica E poi torniamo qui Dopo il giornale radio Sempre qui Good morning Milano Su Crystal Radio Spagna Gente come noi 8 e 37 Del mattino Di oggi Venerdì 31 maggio E un venerdì Tutti insieme Possiamo dire Thanks God Is Friday Però insomma Vediamo Se è veramente Un Thanks God Is Friday Tra prendi Sono arrivati Un po' di Messaggi Che hanno a che fare Con Lo shopero ATM È snaturato Nei principi saccosanti Dei lavoratori Quindi diventa istituzionale Quindi dannoso Controproducente E' vero Quello è uno dei problemi Classi che ci sono Adesso mi dispiace Che non c'è più qui Con noi Giovanni Molisse Perché vogliamo capire Un attimino Ad esempio Quello che molti dicono Che dice Il vero shopero Dovrebbe essere Per quella giornata Non si paga il biglietto Porta aperte Dopo vedi Come sensibilizzi l'azienda Credo però Adesso mi dispiace Che non sia qui Giovanni Che non si possa fare per legge Perché fai un danno All'azienda È come se per shoperare Alla Fiat Smonti un pezzo Di catena di montaggio E te la porti via Cioè il concetto è quello Fai un danno All'azienda Quindi non puoi Questa cosa però Fa un attimino Però che mi viene il dubbio Però invece Quando fanno Quando ci sono stati Degli shopperi In autostrade Mi ricordo che c'erano I caselli aperti Però non so se Da quel momento in poi Appunto la legge Ha deciso che anche quello È un danno All'azienda Perché fa un danno economico All'azienda E quindi non credo Che tu possa fare in ATM Una situazione del genere Però effettivamente Sarebbe forse Lo shoppero più Logico per tutti quanti E infatti Non credo sia legale Però ahimè Mi spiace Che non si possa fare Peccato appunto Che è andato via Giovanni Molisse Il whatsapp Il whatsapp è arrivato Appena dopo La nostra chiusura Invece La tua vita Senza 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 avere problemi Credo che sia Perché abiti vicino All'acquatica Quindi credo che quello L'abbia un attimino Spaventata Comunque andiamo con un po' Di musica Ivan Graziani Sta tornando Alla grande Siamo ben contenti Un cantautore di cui Forse abbiamo perso Un po' troppo le tracce Ma siamo contenti Che ritornino Le sue canzoni E ritornino anche I grandi classici Di Ivan Graziani Come il chitarrista Ivan Graziani Il chitarrista Qui su Cristal Radio Good morning Milano Milano si sente Il vostro morning show La vostra sveglia Ehi ciao Giù dal letto Come diceva Un promo che mi avevo fatto Diceva così Ehi già Giù dal letto Ehi Sì è il bim bam Bim bang Così non lo ricordate Good morning Vietnam Faceva così Comunque molto molto Sicuramente più bravo Di me Andiamo a leggere Sto al Corriere della Sera Milano Invece alcune notizie Che hanno a che fa Con il piano casa Nel senso che La norma salva Milano Doveva entrare Nel piano casa Così aveva Annunciato E promesso Il ministro Salvini Ma così non è stato E allora andiamo a leggere Da Corriere della Sera Milano Norma salva Milano Cos'è l'emendamento Al piano casa Del governo E perché l'approvazione Non è scontata Le indagini della procura Su una serie di interventi Edilizia nel capoluogo Lombardo Ha provocato uno stallo Nei cantieri cittadini Per questo Il comune ha richiesto Una norma ad hoc Ma l'iter Per il parlamentare Potrebbe essere Meno semplice Del previsto E bene sì Perché inizialmente Il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini Aveva annunciato Che la norma salva Milano Sarebbe stata contenuta Nel decreto Piano casa Pubblicato giovedì 30 maggio In gazzetta ufficiale E immediatamente Quindi eseguibile Ma in realtà Dopo l'intervento Del presidente della Repubblica Sergio Mattarella La norma è sparita dal testo E ora quindi Deve partire L'iter parlamentare Per l'approvazione Dell'emendamento Al piano casa Questo è quello Che sto leggendo Da Corriere della Sera Milano Che ci spiega appunto Come anche Salvini stesso Martedì Partecipando Al convegno Dell'associazione Dei costruttori Di Assim Predilance Ha detto Lavoreremo subito Come gruppo lega Agli emendamenti Perché ci sono alcuni interventi Che io ho già pronti E che i parlamentari Hanno già pronti Sul pegresso Non entro nel merito Delle inchieste giudiziarie Dice Salvini Però una città come Milano Non può fermare Le autorizzazioni Edilizie Non può frenare Lo sviluppo Della città Quindi questa è la richiesta Che arriva un po' Di partisan da tutti C'è quindi anche Salvini Appunto Che va così Ma lo stesso sindaco Beppesale Che in questi mesi Ha più volte sottolineato La necessità Di aiutare Milano Nei giorni scorsi In un'intervista Al Corriere della Sera Aveva detto anche Che l'assessore Anche l'assessore All'urbanistica E alla rigenerazione urbana Scusate Giancarlo Tancredi Aveva spiegato Che va chiarito Che non sarà Un provvedimento Per sanare delle irregolità Ma che non dovrebbe Né abrogare le norme Già in vigore Né introdurre di nuove L'idea è una norma Che disciplini E organizzi Attualizzando Rispetto Alle situazioni Di oggi L'edilizia in Italia Che dice Che è ancora regolata Da una legge antiquata Che risale Al 1942 E poi aggiornata nel 68 Sì Tutto bene Sono d'accordo con voi La domanda Che però dovremmo farci Di base È possibile Che siamo ancora qui Nel 2024 A pensare Che io continuo a dirlo Che l'unico modello Di sviluppo Di una città Come Milano Sia quello Edilizio Cioè davvero Non riusciamo a pensare E non ho una risposta E quindi lo chiedo È una domanda Quasi ingenua la mia Cioè non possiamo Non possiamo metterci Un tavolo Invece di creare Norme Nuove O andare Cioè Molto probabilmente Vanno rivisti Questi regolamenti Vanno attualizzati Appunto come dice Tancredi Sicuramente Visto che si risalgono Al 42 68 Ma pensare di attualizzare La politica cittadina Cercare di attualizzare Cosa si vuole fare In una città Allo sviluppo Di una città Cioè la rigenerazione urbana Va bene Si deve rigenerare Ma come rigenerarla È una cosa politica È una richiesta politica Che porta A una rigenerazione Che può andare Verso Il fare grandi parchi Verso il fare Nuove strutture Sociali Verso il fare Dei servizi scolastici Oppure verso L'edilizia residenziale Oppure di servizio Di uffici O anche industriale Il concetto è quello Nel senso Che cosa vogliamo Dalle nostre città Quali saranno Le città del futuro È questo che dobbiamo fare Non fare solo i convegni Che ci chiedono Ci raccontano Ci fanno vedere Grandi progetti Fatti al di là dell'oceano Ma che forse Dovremmo cominciare A ragionare Sulle nostre città Che città vogliamo Qual è la Milano Del 2050 Del 2060 Del 2080 Qual è Marco Mengoni Ma stasera Stasera ditemi Un po' cosa farete 3317853555 Inizia il weekend The stars of the weekend Inizia quest'oggi E che andrà avanti Ancora qualche giorno E poi noi ci risentiamo Qua lunedì Comunque lo sapete Che siamo sempre qui Quindi possiamo raccontarci Quello che vogliamo Tutti i giorni Qui dalle 7 e le 9 Su Crystal Radio Con Good Morning Milano La vostra sveglia Il morning show Che sveglia i milanesi Good Morning Milano 8 e 55 minuti Dance to the music La nostra sigla E i saluti arrivano Qui in diretta Per voi Al finale Di questa puntata Di Good Morning Milano E oggi 31 maggio Facciamo gli auguri E il buon compleanno A Paolo Sorrentino 54 anni Fabio Concato 71 anni Complimenti A entrambi Tanti auguri E buon compleanno E facciamo gli auguri Anche a un giovanissimo Clint Eastwood Che oggi Fa 94 anni 31 maggio 1930 Dopo di noi Va in onda Lo sapete benissimo Chi Ambrogio Curti Con Senti Questa La grande musica Raccontata Dal quel Preparatissimo Speaker Ma non solo Di Ambrogio Curti Non solo speaker Questo voglio dire Conoscitore Scienziato Maestro Della radio Gli altri hanno Alberto Angela Noi abbiamo Ambrogio Curti Thanks God Is Friday Ci diamo appuntamento A lunedì Sempre qui In diretta Su Cristian Radio Dalle 7 alle 9 Con Good Morning Milano La vostra sveglia Il morning show Che vi tira giù dal letto E vi fa andare In questa grande città Grazie a tutti Buon weekend Ciao